E' il secondo tempo, non ci viene entra, i due emers, Robà e Ronaldo, non so se ne andiamo. Come Ronaldo? Cristiano. Allora, contro il sole, contro il sole è successo così. No, però era di questa mente a rottire il nome, però è contro il sole. No, però è giusto, non so se ne andiamo. Allora, non so se ne andiamo.